Non vi dirò le novità, gli scupri che ci saranno durante la serata, vi riservo appunto alla serata stessa, sarà Gianni che vi illustrerà tutte le cose belle che state per ascoltare. Niente, passo ai ringraziamenti. Il concerto è organizzato dalla Provo di Borgo San Lorenzo della quale io sono segretario e purtroppo non è accanto a me il presidente Stefano Ferozzi perché è malato. Vi chiedo un applauso anche a Stefano che veramente mi dispiace tanto perché sarebbe voluto essere qui con tanto desiderio, però oggi aveva la febbre, oggi pomeriggio avere la febbre ho visto questa temperatura e credo ancora più brutta che averla inverno. Detto questo ringrazio anche la parrocchia, ringrazio i volontari del centro giovanile che ci hanno ospitato perché appunto il concerto l'anno scorso come di consueto veniva fatto davanti al palazzo comunale ma quest'anno sapete che ci sono i giochi perché il foroguario è in via di ristrutturazione. E quindi siamo qui ma è un bel colpo d'occhio. insomma vedo veramente una bella immagine di questo numerosissimo pubblico e quindi non vi dilungo e vi lascio ai musicisti di questa fantastica serata che vi verranno presentati da Gianni stesso. Buon ascolto e grazie a tutti. Grazie. 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 For he is good, yes he is good Sometimes I feel like a motherless child Sometimes I feel like a motherless child Sometimes I feel like a motherless child A long way from home A long way from home For he is good, yes he is good 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 For he is good, yes he is good